Grazie a tutti. Dopo l'incidente sull'ambulanza, ha indagato il volontario che era alla guida. Musica, teatro, cinema, il cartellone natalizio Prato Festival torna con tante iniziative, la maggior parte gratuite. Terza sconfitta consecutiva per il Prato, superato dopo una doppia in rimonta degli avversari. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovate un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale torniamo ad occuparci del tragico incidente avvenuto giovedì scorso sulla Porrettana, a seguito del quale ha perso la vita un anziano trasportato a bordo di un'ambulanza della Misericordia di Prato. Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Pistoia. È formalmente indagato per omicidio stradale il volontario della Misericordia che era al volante dell'ambulanza coinvolta in un incidente nel quale ha perso la vita un 85enne giovedì scorso. L'anziano si trovava all'interno dell'ambulanza che stava compiendo un servizio di trasporto socio-sanitario per il trasferimento dell'85enne dalle cure intermedie di Prato ad una RSA sulla montagna Pistoiese. Il veicolo, dopo essere uscito di strada, si è andato a schiantare contro un moretto sulla Porrettana. Il volontario dell'Arciconfraternita alla guida dell'ambulanza, che è rimasto ferito nell'impatto, ha dichiarato di aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sulla vicenda indaga la Procura di Pistoia. Il PM titolare dell'inchiesta ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati, il volontario assistito dagli avvocati Febbo e Malerba. Sul corpo dell'anziano deceduto sarà disposta l'autopsia. I difensori del volontario nomineranno un proprio consulente per accertare le effettive cause che hanno portato alla morte dell'85enne. E cambiamo argomento. Sono 17 nuovi casi di Covid registrati oggi in provincia di Prato, dato in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, in seguito però al minor numero di test solitamente effettuati nel fine settimana. Il bollettino di Arno riporta anche una vittima nel Pratese su un totale di 7 decessi in Toscana. A livello regionale i nuovi contagi sono 308, con un'età media di 38 anni. Anche in questo caso si registra un calo a fronte però di un numero di tamponi più che dimezzato, con un tasso di positività che pertanto è un aumento e torna sopra il 2%. E tornano ad aumentare anche i pazienti ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani. Oggi sono complessivamente 299, 7 in più rispetto a ieri, 44 in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri. Spettacoli teatrali, concerti anche in luoghi insoliti come il carcere, cinema e soprattutto la presenza del pubblico. Sarà un Natale di rinnovata speranza che sarà allietato dai tanti eventi del Prato Festival, la maggior parte dei quali ha ingresso gratuito. Concerti al Teatro Magnolfi, nelle chiese della città e al Museo di Palazzo Pretorio. La prima novità è che Prato Festival torna dal vivo dopo la pausa forzata del 2020 attraverso lo spettacolo, quindi il teatro, che in particolar modo a Magnolfi, ma anche a Officina Giovane attraverso la Rassegna Ex Temporaneo, che per 4 venerdì sarà ospite della sala eventi, poi tornerà alla musica con Giovanni Truppi presso il carcere della Dogaia e altri appuntamenti in altri luoghi della città, ma soprattutto torna lo spettacolo dal vivo con il pubblico in presenza. E poi tornerà anche il concerto dell'ultimo dell'anno. Per il primo dell'anno tornerà la musica, come da tradizione ormai da un sacco di tempo, con la massima attenzione alle norme che ancora regolano la nostra convivenza, ma anche con la felicità di poter tornare in presenza, in un teatro, in una sala da concerti, con un'attività più o meno quotidiana, anche nelle frazioni, nei limiti del possibile, del nostro territorio. E tutti gli eventi nel rispetto delle norme anti-Covid saranno con prenotazione obbligatoria e previa esibizione del Green Pass. Il cartellone delle iniziative è consultabile sul sito www.pratofestival.it. Parte da Prato, ma raggiunge tutto il mondo per raccontare l'impatto ambientale dell'industria della moda e un'esperienza di economia circolare straordinaria, antichissima, tornata di grande attualità, quella del riciclo della lana. Stiamo parlando di Stracci, il documentario diretto da Tommaso Santi, scritto insieme a Silvia Gambi e prodotta da Cove in collaborazione con Solo Moda Sostenibile. Il nuovo lavoro del regista pratese è stato presentato in anteprima alle manifatture digitali. Oggi finalmente abbiamo presentato Stracci, un racconto corale che unisce la storia e il presente dell'industria della lana riciclata pratese, inserendola però in un contesto mondiale, perché oggi non si può parlare della piccola esperienza pratese senza inserirla in quello che accade nel resto del mondo. È l'inizio di un percorso del documentario Stracci, realizzato da me insieme a Silvia Gambi e pronto a spiccare il volo verso altre proiezioni, festival, tra cui mi fa piacere segnalare intanto la prossima proiezione a Prato, siccome per fortuna queste serate sono andate esaurite, sarà il 4 dicembre nel hub dell'azienda Best con due proiezioni alle 18 e alle 21. Speriamo che ce ne siano altre in città, visto il successo che fortunatamente ha riscosso, e speriamo soprattutto che la storia di Prato, passata e presente, raggiunga il più possibile il resto del mondo. Nuova sede in via Filicaia per Rifoil, brand pratese di indumenti realizzati con materiali rigenerati, ha festeggiato i suoi quattro anni di vita con l'inaugurazione della nuova sede. Dallo spazio augurà in Piazza Ciardi, a 750 metri quadri di via Filicaia, un passaggio che testimonia la crescita della start-up, che piano piano sta diventando un'azienda con un team composto da 14 componenti, tra personale strutturato e collaboratori. L'inaugurazione della nuova sede è stata arricchita dall'esposizione Volti di Jacques, che rimarrà visibile negli orari di apertura del negozio fino al 12 dicembre. Gli spazi saranno condivisi con lo studio di comunicazione Punto Filo. Ci siamo spostati da Piazza Ciardi 23 perché era piccolo per le nostre attività, quindi da adesso siamo qui, non siamo soli, nel senso che c'è anche lo studio Punto Filo, uno studio di comunicazione insieme a noi e qui si svolgono tutte le nostre attività e c'è anche un negozio dove le persone possono venire e acquistare i nostri prodotti Rifo realizzati a Prato con fibre rigenerate. La mostra che abbiamo scelto per l'inaugurazione è la mostra di Jacques, che è un pittore nostro amico, che riguarda i volti di Prato. Rifo produce capi ad accessori realizzati con fibre tessili 100% rigenerate, trasformando gli scarti di tessuto in nuovi vestiti. Questo metodo consente di riutilizzare gli scarti e ridurre sensibilmente la quantità di acqua, di pesticidi e prodotti chimici utilizzati nella produzione. Passiamo adesso allo sport. Al calcio continua il periodo del Prato che ha remediato la terza sconfitta consecutiva. Vediamo. Qualcosa si è inceppato, c'è poco da fare. Il Prato in cappa nella terza sconfitta consecutiva in campionato, superato per 3-2 dalla pericolante Trizium. Sul campo di Trezzo sull'Adda, la squadra di Marco Amelia non ha saputo gestire il vantaggio conseguito in due circostanze, mostrando evidenti limiti di tenuta. La squadra bianca-azzurra inizia bene, al decimo il vantaggio della squadra laniera, griffato dal capitano Shannamè. Il Prato sembra in palla, Maione prima e Tommaselli successivamente fanno venire i brividi al portiere Fabiani, ma senza colpo ferire. La Trizium aumenta la pressione con il passare dei minuti e proprio nel finale di prima frazione di gioco riesce a pareggiare con Garcia, che riesce a trovare la traiettoria forse deviata, ma vincente. Il primo tempo finisce 1-1. In avvio di ripresa la partita è equilibrata. Il Prato è pericoloso con Cestaro che colpisce il palo. La squadra di Marco Amelia aumenta i giri al motore e riesce a riportarsi in vantaggio. Contatto in area di rigore tra Maspero e Dorsi, che induce l'arbitro a concedere il penalty ai lanieri. Dal dischetto, Tommaselli realizza con freddezza. È 2-1 per il Prato. La reazione dell'Atrizium è vehemente. Pagnini deve fare gli straordinari su Scaramuzza, ma deve capitolare al minuto 15 sulla conclusione precisa, sempre, di Scaramuzza. È 2-2. L'Atrizium esulta. Il Prato, invece, comincia a vedere i fantasmi e poco dopo subisce la rete del sorpasso. Cestaro a terra in area di rigore Gobbi. Per l'arbitro ci sono nuovamente gli estremi per il penalty. Dal dischetto, lo stesso Gobbi supera Pagnini e porta avanti l'Atrizium. È 3-2 per i Lombardi. La reazione del Prato è alla camomilla e l'Atrizium può brindare al successo, mentre il Prato si lecca le ferite e chiude in 10 uomini per l'espulsione di Alexic per questo fallo. Terza sconfitta consecutiva. La campanella d'allarme rossa in Casa Laniera si è accesa. E come? Passiamo adesso alle previsioni del tempo. Come sempre, a cura del Consorzio Lamma. Un caloroso saluto a tutti. Ben trovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine dal satellite ci mostra un'Italia con molte nubi. Nubi legate a un'area di bassa pressione che ancora una volta si va approfondendo sul Mediterraneo centro-occidentale. Andiamo a vedere il tempo previsto per la giornata di oggi. Una giornata che vedrà la Toscana interessata da molte nubi. Cielo molto nuvoloso coperto con qualche precipitazione di breve durata a carattere sparso. I venti sono da nord-est, debole o moderati, i mari per lo più poco mossi. Le temperature sono pressoché stazionarie con massime comprese tra 14 e 16 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di martedì. Una giornata che inizia ancora con cielo molto nuvoloso coperto, qualche residuo a precipitazione possibile, in particolare sull'Appennino, Fiorentino ed Aretino. E venti sostenuti di grecale con mari mossi in particolare all'arco. Nella seconda parte della giornata è atteso un miglioramento con parziali schiarite sui settori che si affacciano sul mare e con residui addensamenti più compatti invece nell'interno. Venti di grecale, mari mossi, temperature massime in lieve diminuzione comunque intorno ai 15 gradi. È tutto, grazie per l'attenzione. E con il meteo è tutto, ma restate con noi. Vi ricordiamo alle 17 in diretta dal Duomo di Prato la recita del Rosario a seguire la celebrazione della Messa. L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20 e 30, ma nel frattempo tutti gli aggiornamenti li potete trovare sul nostro nuovo sito internet tvprato.it. Grazie per averci seguito e arrivederci. 5Chevi per aver guardato Noistas wasgliere comeciù.e 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 comeciù.e.